Musica Sabato 15 ottobre 2022, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione siciliana di Reitv che apriamo parlando di politica. Ieri sera si è insediato il nuovo governatore della regione siciliana Renato Schifani ma per conoscere i componenti della sua giunta bisognerà ancora attendere qualche giorno. Il servizio è di Luca Licata. L'insediamento del nuovo governatore della Sicilia Renato Schifani è stato preceduto da un lungo discorso del presidente uscente Nello Musumeci che ha ripercorso i cinque anni di mandato. Un governo che non ha mai ricevuto un giorno di crisi, ha subito un giorno di crisi, mai. Abbiamo governato con gli stessi assessori per cinque anni. L'80% degli assessori è stato formato dalle indicazioni della primordia. Il passaggio di consegni è avvenuto in un clima di armonia. Una stretta di mano, gli auguri e la scelta dei libri come reciproco scambio di doni. Schifani ha ringraziato il suo predecessore. In eredità mi hai lasciato due raccomandazioni che stanno dentro la mia mente. Non accettare mai accordi a ribasso e ti garantisco, amico Nello, non li accetterò mai. Questo uno dei passaggi incisivi del discorso di insediamento del neopresidente della regione, che ha parlato a braccio esponendo i suoi intenti. Mi sforzerò di essere aperto al dialogo con tutti, con la maggioranza e le opposizioni che intendo incontrare. Nel mio operato mi lascerò guidare dalla trasparenza. Per la seconda volta della storia della mia vita politica, sono chiamato, devo dire con sincerità, inaspettatamente a ricoprire un altro ruolo. Rimane in me sempre impresso il ruolo di Presidente Merito del Senato, perché sono sentimenti che non si cambiano, a questi canoni dell'onestà, della trasparenza, del dialogo, del confronto, ma anche della decisione. Perché quando ci sarà da decidere, io non mi lascerò tirare la giacca, né da un lato, né da un lato. Per l'individuazione degli assessori c'è ancora tempo, la legge prevede un periodo medio-lungo. Come prima cosa mi occuperò delle emergenze, ha riferito Schifani, previsto infatti per oggi un sopralluogo del Presidente, nelle zone alluvionate del Trapanese, per visitare i luoghi colpiti dal nubifraggio, incontrare gli amministratori locali e registrare le esigenze dei cittadini. Il Trapanese per visitare quei luoghi, per incontrare gli amministratori locali, le autorità a registrare i fatti, ma non soltanto i fatti, ma registrare le esigenze e le aspettative, le quali naturalmente hanno diritto non soltanto loro, ma i cittadini colpiti da quelli nubifraggio. In modo assessori, che fa parte anche dell'attività dei giornalisti come quello del Tottoministri, e forse rimane a deluso, non lo so, a me dispiace delle queste delusioni, però i tempi sono meno lunghi e lavoreremo perché ci sia una rappresentanza assessoriale legittimata dal popolo, quindi che abbiano sotto le volezze che viene dal basso, ma è evidente, ho detto sempre, che se poi l'eccezione che conferma la regola ci possede sempre, purché quell'eccezione obbedisca dei criteri, dei criteri di specificità, di professionalità. Grande assente ieri sera al tradizionale passaggio di consegna a Palazzo d'Orlean, Gianfranco Miccichè, presente invece il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e i familiari del neogovernatore, il quale al termine della cerimonia ha ricevuto una lunga telefonata da Silvio Berlusconi. E come avete sentito, il tema legato ai disastri provocati dal maltempo è stato, oltre che al centro del discorso di insediamento del nuovo governatore siciliano, anche di un incontro che si è tenuto in prefettura a Messina, proprio su esplicita indicazione del prefetto della città dello stretto. Il servizio. L'arrivo della stagione autunnale, la situazione in alcune zone del territorio isolano, particolarmente interessate dal rischio idrogeologico ed idraulico. Riunione presso il Palazzo del Governo a Messina, organizzata dalla Prefettura, d'intesa con il segretario generale dell'autorità di Bacino, distretto idrografico della Sicilia, con la partecipazione del dirigente provinciale del Servizio regionale di protezione civile. In apertura dei lavori, nel ricordare i tragici avvenimenti che hanno colpito negli anni alcuni luoghi della città metropolitana dello stretto, è stata evidenziata la necessità di garantire un efficace funzionamento dell'azione di protezione civile anche a livello locale, assicurando la piena vigilanza delle aree sottoposte a maggiori criticità, soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi ed imprevisti. Per far conoscere alle amministrazioni i percorsi anche burocratici da seguire con la Regione per poterne venire fuori. Nello stesso tempo, questa iniziativa è caduta proprio nella settimana della protezione civile, perché il tema della sicurezza, della protezione dei cittadini da questi eventi che oramai si stanno estremizzando, soprattutto quelli di tipo idrogeologico, implicano comunque un'esigenza di tenere alta l'attenzione. tenendo presente che abbiamo dei vincoli che si sono purtroppo nel tempo conclamati, pensiamo alle costruzioni che si sono fatte in zone che magari sono particolarmente a rischio, costruzioni realizzate negli albei dei fiumi, che magari erano in siccita da oltre 100 anni e che quindi diciamo giustamente uno non ci pensa oppure ha perso la memoria storica e quindi occorre fare quindi grande attenzione, tenere alta la guardia e convegni come quello di oggi possono dare un contributo sia sotto il profilo scientifico ma anche naturalmente per sensibilizzare la popolazione sui comportamenti di autoprotezione. Tutti i luoghi devono essere attenzionati, il tema non è la pioggia in sé per sé ma è la pioggia intensiva, quando ti cadono quantitativi importanti di acqua e quindi naturalmente tenendo presente che i fiumi possono riprendersi il loro letto questo determina ovviamente delle condizioni di rischio. Le mutate condizioni climatiche sono al centro di nuovi studi di settore e ne abbiamo parlato con Marcello Consolo, tecnico di fisica meteorologica. Salvo Cutuli. Le mutate condizioni climatiche con fenomeni improvvisi e violenti, le cosiddette bombe d'acqua, brevi e intensi e sempre più funesti impattano con maggiore forza nelle aree urbanizzate causando distruzione e morte e la situazione è destinata a peggiorare col passare dei mesi quando le perturbazioni saranno più intense e frequenti. Colpa del surriscaldamento della terra e del contrasto accentuato dalle correnti freddo-caldo una sorta di termoregolatore naturale che sembra come impazzito per effetto dei mari sempre più caldi i quali nei processi di evaporazione alimentano condizioni meteoanomale. Questa energia ha investito la zona dell'Entrapanese nei giorni scorsi più recentemente Marsala. A parlare Marcello Consolo, tecnico di fisica e meteorologia, studioso e attento osservatore delle mutazioni meteo che da qualche anno flagellano l'isola temporale di forte intensità e venti anomali cui non eravamo abituati diventano sempre più frequenti e le città urbanisticamente non adeguate a smaltire le masse d'acqua che si accumulano in maniera repentina creano allagamenti e lo straripamento dei torrenti allagando strade e piazze in maniera incontrollata mentre sono sempre più presenti le alluvioni nelle grandi aree agricole come quella avvenuta anni addietro nella piana di Catania o quella dello scorso anno che ha investito il capologo Etneo facendo registrare vittime oltre a danni ingenti. Il ripristino e il potenziamento del sistema di scarico delle acque piovane una priorità. Caditoi e Tombini vanno puliti prima della stagione infernale così come gli alve dei torrenti abbassati per via degli accumuli di pietra e terra che riducono la portata degli stessi. Da non dimenticare gli impianti di reggimentazione e scarico a mare che fino a fatto il canale di Gronda il sistema di captazione delle acque meteoriche che da paese Etnei si riversano verso il centro di Catania con effetti sempre più devastanti. È una situazione che era stata già anche prevista in qualche modo perché una forte perturbazione atlantica associata all'anticiclone africano ovviamente due masse d'aria differenti fra calda e fredda hanno determinato una situazione veramente drammatica catastrofica. Inoltre l'energia che si trova nei bassi strati e sul mare è così elevata che basta un nulla per scatenare un fenomeno estremo, significativo così come si è manifestato nei giorni scorsi a Trapani così adesso su Marsala e a breve purtroppo durante il mese di novembre dobbiamo attenderci dei fenomeni significativi. In questo momento non possiamo parlare di uragani, tornado perché sul Mediterraneo questi fenomeni non si presenteranno mai magari ridotti ma siamo presenti a delle condizioni come un Donbass cioè a dire un fenomeno esplosivo che immediatamente una fase discente dell'aria fredda che cade al suolo traffiche di vento oltre 100 km orari ciò non fa altro che determinare una situazione di instabilità elevata che arrivando al suolo determina danni ingenti e crea anche a volte la perdita di vite umane. Vi ricordate ciò che è successo l'anno scorso? Abbiamo previsto 3-4 giorni prima la caduta di incendi quantità d'acqua 400-500 mm di pioggia poi se ne sono quasi stati 800. L'ambiente è curato dalle istituzioni anche da cittadini una città come Catania che non è pronta a ricevere un fenomeno del genere ovviamente crea delle problematiche sociali ambientali economiche fondamentalmente sta nelle istituzioni e nelle loro competenze provvedere a preparare e distruire anche il personale su un eventuale caso del genere. Le nostre città sia per posizione orografica sia per esposizione al sole e quant'altro non sono pronte a subire questi fenomeni così significativi. non abbiamo la possibilità di contenere un fenomeno del genere che possa manifestare anche in 10 minuti 700-800 mm di pioggia. Trasporto sanitario d'urgenza per un piccolo paziente di soli 6 giorni in imminente pericolo di vita da Catania all'aeroporto di Ciampino con un velivolo Falcon 900 dell'aeronautica militare. I medici del presidio ospedaliero Garibaldi, Inesima e Tneo riscontrando il quadro clinico complesso del piccolo paziente hanno richiesto il trasporto d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma lo rende noto proprio l'aeronautica militare. Il velivolo è arrivato all'aeroporto di Catania dove insieme al bimbo che ha viaggiato all'interno di una culla termica sono stati imbarcati i genitori ed una equip medica del nosocomio catanese. Il velivolo è poi decollato verso l'aeroporto di Ciampino dove durante l'atterraggio è venuto poco dopo le 21 un'ambulanza ha assicurato il trasporto verso l'ospedale pediatrico. Si finge titolare di un albergo per denigrare struttura e clienti ma è stato arrestato dalla polizia. Mario Grasso. Migliaia di email denigratorie falsi profili social sostituzione di persona ingiurie a terzi la polizia postale di Catania ha arrestato in fragranza un 46enne ritenuto responsabile del delitto di atti persecutori aggravati dall'utilizzo degli strumenti telematici nonché diffamazione e sostituzione di persona vittima un albergatore che opera nella Cese che a causa appunto delle false email era stato persino anche indagato perché a sua volta denunciato dai destinatari delle denigrazioni una storia complessa che ha costretto la polizia postale ad anni e anni di indagini coordinate dalla procura distrettuale di Catania la prima denuncia infatti risale al lontano 2014 il titolare di una struttura alberghiera segnala appunto come qualcuno provasse a denigrarlo fingendosi il titolare della stessa struttura alberghiera che però paradossalmente veniva direttamente diffamato ingiuriando gravemente destinatari o loro amici e conoscenti non email indirizzate all'uomo della strada ma personaggi delle istituzioni dell'imprenditoria delle professioni anche residente in altre parti d'Italia e all'estero secondo l'accusa l'arrestato fingendosi appunto il titolare per danneggiare l'immagine oltre agli insulti rivolti anche alla sua famiglia avrebbe fatto riferimento ad una vendita del suo hotel in presunto fallimento e a vicende del tutto personali insomma accuse riflessioni pensieri parole scritte che hanno creato grave disagio turbamento nella parte resa ma anche nei suoi familiari secondo quando comunicato dalla polizia postale l'arrestato conoscerebbe la vittima e sebbene avesse interrotto ormai i rapporti da tanti anni tant'è che non vi erano sospetti sulla persona adesso finita in manette avrebbe nutrito nei confronti della vittima un profondo rancore soprattutto pare per questioni legate a vecchie vicende economiche tutto questo ha spinto l'indagato a scrivere inoltrare migliaia di email a soggetti vari e distanti tra loro ma che in qualche modo erano venuti in contatto avevano relazioni di tipo personale e commerciale con la vittima tra l'altro il 46 ne viene definito come esperto nell'utilizzo dei sistemi informatici tant'è che era riuscito a nascondere in maniera molto abile le tracce informatiche così da evitare ogni tipo di sospetto era divenuto del tutto anonimo la procura ha disposto delle intercettazioni anche telematiche e così la polizia postale ha potuto indagare con servizi di intercettazione fino a quando la pista si è fatta sempre più chiara poi la decisione di agire dopo un'attività di pedinamento il 46 ne infatti è stato tratto in flagranza mentre era collegato con una rete wifi pubblica nel centro di Catania pronto per l'invio di nuovi messaggi adesso si trova agli arresti domiciliari ma come è possibile difendersi da azioni del genere beh innanzitutto è chiaramente denunciando e prima si denuncia diciamo e meglio è per la tempestività dell'intervento ovviamente in questo caso non è stato semplice abbiamo messo su col coordinamento immediato devo dire della procura distrettuale le migliori risorse investigative perché l'indagato utilizzava servizi sofisticati di onnimizzazione e con questi in ogni caso si collegava anche da reti wifi pubbliche quindi è stata diciamo un'attività complessa lunga ma che dà riscontro poi alla fine che la denuncia paga questo è uno dei nuovi tipi di reato ciò siamo detti tante volte il mondo cambia la tecnologia ormai è ovunque la polizia postale però è sempre presente e questo l'abbiamo diciamo confermato il nostro impegno c'è ed è chiaro che anche se utilizzare servizi che consentono di nascondersi ecco e quindi di agire dietro un pc dietro uno smartphone con l'idea di restare impuniti non è sempre così bisogna ovviamente essere chiari questo quest'indagine ha messo su in campo delle risorse delle risorse importanti però ecco da riscontro al fatto che nessuno può rimanere impunito ed è uno dei primi casi questo lo voglio sottolineare di atti persecutori compiuti esclusivamente in maniera telematica perché appunto come abbiamo dato riscontro nel nostro comunicato nel comunicato della procura distrettuale c'è stato un'attività fatta esclusivamente online quindi con profili social falsi con l'invio massivo di email a migliaia di utenti a Catania nasce Radio Caritas Duzmet far sentire la voce degli ultimi aiutare chi non è aiutato ascoltare chi vuol parlare unire attraverso le onde radio anzi quelle del web nasce a Catania Radio Caritas Duzmet una struttura comunicativa snella agile ideata voluta messa su e aperta dalla Caritas Diocesana non è sintonizzabile in FM perché nasce come web radio cioè come strumento moderno e innovativo che ha l'obiettivo di creare una rete quella dell'accoglienza dell'assistenza dell'ascolto seguendo quello che è il percorso della Caritas Diocesana di Catania questo è l'help center della Caritas a poche decine di metri dalla stazione ferroviaria centrale di Catania qui il cuore della web radio Caritas Duzmet nel luogo dove si offre accoglienza dove si offre un pasto caldo e si offre soprattutto tanta fraternità è giusto che ci sia l'opportunità per dare voce una radio rende protagonista chi ha davanti un microfono e può parlare a tutti e tante volte i nostri poveri o sono chiusi nel loro mutismo oppure sono esasperati al punto tale da urlare la loro mancanza di speranza invece accoglierli dare loro voce metterli davanti a un microfono dicendo di qual è la tua esperienza significa renderli protagonisti in un mondo che li ha scartati microfono aperto dunque alle rubriche alle trasmissioni radiofoniche rilanciate sul web fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce ecco il rumore silenzioso della foresta che cresce che è quello della carità che salva tante persone qui a Catania sarà possibile ascoltarlo attraverso radio DUSMET per la Caritas Diocesana di Catania più che una nuova sfida un nuovo progetto che diventa realtà voce ecco ai poveri ci saranno diverse rubriche in cui racconteremo proprio le storie di vita di coloro che vengono qui italiani e stranieri ma non solo ecco le storie di vita di coloro che vengono qui all'Elpi Center ma anche coloro che immigrati che si sono realizzate ecco qui a Catania daremo voce ecco anche ai giovani delle scuole daremo voce anche alle associazioni ecco alle parrocchie che si occupano ecco dei poveri proprio per conoscere ecco il bene che questa chiesa la società civile e religiosa ecco fa qui a Catania ecco il motivo è questo dare voce agli ultimi tutto nel segno forte e chiaro del beato DUSMET DUSMET ecco è veramente il vescovo ecco amico dei poveri ha dato tutto ai poveri dunque Radio Caritas DUSMET per questo motivo qui a Catania il DUSMET è conosciutissimo e speriamo che la chiesa lo possa ecco come si suol dire in genere fare santo ecco adesso ecco il beato ma noi speriamo che lui faccia questo miracolo farmacie farmacie riunite oggi e domani a Taormina un appuntamento molto atteso che torna dopo due anni di stop causati dalla pandemia protagonista Taormina Farm Evolution 2022 convention dedicata al mondo della farmacia con migliaia di visitatori provenienti per la tre giorni taorminese da tutta l'Italia un centinaio di stand circa distribuiti sui 5.000 metri quadri del pian terreno del parcheggio Lumbi per gli addetti al settore e non solo la possibilità di conoscere le ultime novità considerando anche l'accelerazione che ha avuto l'intero settore con le farmacie che hanno assunto ulteriore importanza sul territorio proprio in coincidenza col covid le novità più importanti sono quello che è diventata la farmacia dall'ultima volta che ci siamo visti qua se non sbaglio questo è stato l'ultimo convegno che abbiamo fatto di presenza prima della pandemia la farmacia è diventata un'altra cosa si è trasformata da un ruolo di dispensazione del farmaco a un ruolo di presa in carico del cittadino i vaccini i tamponi adesso i vaccini antifluenzali sono un esempio di questo quindi direi che ci ritroviamo qui col piacere di una farmacia nuova e più integrata nel servizio sanitario nazionale servizi fondamentali soprattutto durante il periodo pandemico e beh sì durante il periodo pandemico intanto abbiamo sempre reso disponibile il farmaco facendo anche accordi con la Croce Rossa per portarli i farmaci a livello domiciliare ma poi soprattutto siamo stati aperti abbiamo stampato i green pass il contact tracing non si faceva se non tramite la farmacia l'80 l'85% dei tamponi erano fatti in farmacia si è fatto un gran numero di vaccini circa ad oggi siamo intorno ai 4 milioni di dosi c'è voglia voglia di cominciare voglia di essere aggiornati voglia di confrontarsi voglia di essere sempre più formati per una farmacia che sta cambiando volto faccia ma anche dall'interno per dare tutte quelle che sono i servizi che oggi l'utenza ci chiede la pandemia sicuramente ha cambiato il volto e ha incentivato alcuni passaggi oggi siamo pronti per affrontare sicuramente una nuova visione della farmacia attenta ai servizi e alle esigenze dei cittadini sicuramente stiamo facendo di tutto mi auguro che ci sia un riscontro positivo in tutta quella della manifestazione ma dei numeri che abbiamo di ieri e di oggi questo ci fa sperare di poter chiudere sicuramente un bilancio positivo quali sono le innovazioni sostanziali del settore? le innovazioni sono legate a tutti quanti servizi alla telemedicina la possibilità di fare tutta una serie di attività l'oltrecardiogramma l'oltrepressorio la spirometria l'evento che si tiene all'interno del parcheggio Lumbi fa parte di un attrittico di convention mirata ad alimentare il turismo anche nel periodo autunnale a Taormina manifestazioni come queste servono a valorizzare la struttura anche in un momento in cui magari il turismo è un po' in calo certo manifestazioni del genere appunto valorizzano la struttura e danno modo anche di attivare un indotto che in questo momento magari era un po' più bloccato perché ricordiamoci siamo alla fine dell'estate quindi siamo già in pieno autunno abbiamo il parcheggio oggi già pieno strapieno stiamo riempendo anche l'altro parcheggio e sarebbe il parcheggio Porta Catani e quindi una manifestazione del genere è un beneficio prima di tutto per la nostra azienda l'ASM di Taormina poi per tutta la città di Taormina per l'indotto per gli albergatori e tutto quanto e adesso parliamo di vino cantinato in mare primo esperimento siciliano di un etna doc Rosè il vino cantinato in mare è la nuova sfida dei produttori alla ricerca di innovazioni capaci di esaltare le peculiarità delle produzioni etnee UWW acronimo di Underwater Wines ovvero il vino affinato nelle profondità marine rappresenta una vera rivoluzione nelle procedure di fermentazione a temperatura costante assenza di luce e microossigenazione la prima sperimentazione in Sicilia con alcune casse di Rosè lasciate per alcuni mesi a riposare a 50 metri di profondità nello specchio di mare antistante l'isola Rechea di Acitrezza c'è una start-up italiana con sede a Portofino formata da ingegneri ed esperti di questa tecnica nota sin dall'antica Grecia i primi a sperimentare in questa direzione oggi con metodo scientifico e testato con successo ieri nella sala conferenza dell'hotel di Faraglioni sommelier e produttori si sono incontrati degustato e comparato il vino affinato in mare con quello in botte analogo a imbottigliamento gusti decisamente diversi quello marino liquoroso e denso dalla botte invece delicato e corposo stesso vino ma a procedimenti diversi il risultato è esaltato i presenti che hanno apprezzato il primo cantinamento in mare di un vino etneo doc Camillo Privitera sommelier già presidente dell'AIS catanese l'associazione italiana sommelier è una nuova frontiera che riscuote maggiore successo interesse sempre più aziende stanno cercando di capire quello che è le caratteristiche di un fondale marino per quello che riguarda le correnti la pressione che c'è appunto nell'ambito di un fondale marino l'assenza di luci può fornire i vini per cui maggior interesse è legato anche a un aspetto sostenibile che il vino chiaramente cantinato in mare può offrire in quanto non c'è utilizzo di spazi non c'è utilizzo comunque se non gli spazi naturali e soprattutto non c'è consumo di energia perché l'energia è quella che di fatto per il mantenimento della temperatura che si utilizza è quella proprio dell'acqua e quella del mare il primo esperimento di Underwater Wines siciliano un successo e per il prossimo anno altre tre cantine regionali prenderanno parte all'innovativa iniziativa di Nicchia che sta prendendo piede sia in Italia che all'estero Emanuele Cottakis consulente della Giamin prima società di cantinamento subacqueo dei vini abbiamo iniziato a Portofino dove continuiamo a sperimentare ma oggi abbiamo già oltre cinque cantine subacqueo sul territorio italiano e abbiamo aperto l'affiliazione commerciale quindi cerchiamo di mappare tutta l'Italia è innovativa è vero ma forse è corretto ricordare che l'applicazione di conservazione in mare già veniva in epoca antica anche dagli antichi greci come conservazione di temperatura perché una delle chiavi effettivamente della conservazione dell'affinamento subacqueo è quella di una costante temperatura chiaro bisogna scegliere la giusta cantina diciamo che oggi l'innovazione vera 2021 ci ha visto tra le prime dieci start up italiane è quello di avere il governo e la consapevolezza della metodologia ad applicare si affina meglio il vino rosso il mare e il vino rosso o il vino bianco tecnicamente si affinano entrambi dipende dalla tipologia del bianco del rosso quindi fondamentalmente è il tipo di vino che non è solo bianco rosso spumante che definisce la capacità di andare in affinamento subacqueo in occasione della giornata nazionale dei veicoli d'epoca il club la manovella il veteran car club etneo il più antico di sicilia domani 16 ottobre in piazza duoma da cirale dalle ore 10 alle 13 daranno vita all'esposizione statica di 60 auto d'epoca che abbracciano costruzioni che vanno dagli anni 30 agli anni 80 l'iniziativa che sposa le giornate del FAI il fondo per l'ambiente italiano con la fruizione di chiese ed edifici storici per l'occasione aperti al pubblico i visitatori avranno l'opportunità di recarsi all'esposizione di piazza duomo di auto d'epoca disposte secondo anno di fabbricazione e brand parliamo adesso di sport trasferta insidiosa per il catania ssd impegnato domani pomeriggio a cercola in provincia di napoli contro la mariglianese Francesco Larosa è ancora a lunga la lista dei calciatori indisponibili del catania impegnato domani pomeriggio sul campo della mariglianese la gara che all'inizio alle 15 si disputerà sul campo di cercola una quindicina di chilometri da napoli mister ferraro dovrà rinunciare ancora a litteri e scognamiglio entrambi convalescenti di lungo corso ma non saranno del match anche Marco Palermo Alessandro e Andrea Russotto Giorgio Chinnici e Orazio Di Grazia infortuno muscolare ancora non risolto per Chiarella mentre Jefferson sarà lasciato ai margini per ragioni disciplinari tuttavia l'allenatore metterà in campo una squadra che dovrà puntare dritto alla sesta vittoria consecutiva per non mollare la presa e confermare la leadership in graduatoria la prima volta che usciamo fuori dalla Sicilia andiamo a giocare in campagna dove troviamo una maridianese una squadra giovane ma molto aggressiva sicuramente le trasfette quando una squadra si sposta ci sta un disperdio di energie però siamo pronti ad affrontare il Catania calcio e la società ci permette di affrontare le trasfette con la massima comodità e questo qui già per noi per la categoria in cui lavoriamo e come ci fanno lavorare e come ci fanno stare bene la società non ci sta nessun tipo di problema anzi le sim troppo ci fanno stare comodi e soprattutto trasfette sempre organizzate nei miei dettagli loro sono una squadra molto aggressiva e noi dobbiamo essere pronti a giocare sempre quasi sempre siamo in tutte le zone di campo abbiamo un uomo che ci veda ad aggredire e noi dobbiamo essere pronti nelle soluzioni di liberarci la palla e di cercare di farle male questo sicuramente però credo che noi siamo qui perché sicuramente bisogna dare il massimo ogni partita e siamo pronti domenica a Marigliano di fare una partita importante soprattutto una partita con grande intensità perché alla fine quando andiamo a fare come stiamo facendo fino adesso affrontiamo con l'intensità con la voglia con l'applicazione con la disponibilità del gruppo chi gioca e chi non gioca perché l'obiettivo del Catani è che ognuno di noi siamo parti indaganti a questo progetto e raggiungiamo l'obiettivo tutti quanti insieme c'è la pubblicità tra poco rieccoci in diretta è il momento delle previsioni meteo le previsioni meteorologiche per la giornata di domani domenica 16 ottobre cielo velato un po' su tutta la Sicilia i spazi soleggiati tra Palermo ed Enne i venti saranno deboli ma i caldi le temperature sul capologo etneo minima e massima rispettivamente di 18 e 26 gradi centigradi la temperatura più alta Siracusa con 27 gradi e la più bassa Denna con 8 gradi centigradi è tutto grazie per averci seguito e preferito l'informazione di ReTV torna puntuale questa sera alle 19.45 a voi tutti buon pomeriggio grazie per aver guardato